Benvenuti su SportsScience, io sono Luca Russo e oggi parleremo di postura statica e dinamica. L'argomento è assolutamente interessante, importante, ma ancora di più è veramente, veramente complicato e potremmo parlare di questo argomento per tanto, tanto, tanto tempo. È un argomento che ovviamente si presta a tante tipologie di definizioni, quindi la cornice iniziale e le regole, diciamo, le regole di ingaggio di questo webinar sono che ovviamente non posso discutere tutto quello che si può trattare in termini di postura dinamica e postura statica, ma cercherò di darti quelle che sono delle informazioni base per iniziare a ragionare in questa maniera. E allora come lo faccio? Lo faccio semplicemente proponendoti il, diciamo, il punto di partenza, quindi la definizione di postura statica contro quella di postura dinamica, è una definizione che abbiamo già affrontato insieme nei webinar precedenti che puoi trovare nel canale posturadisportscience.com, poi, dopodiché, a questo punto facciamo due esempi. Attraverso gli esempi riuscirò a cercare di farti arrivare all'idea di postura dinamica e all'idea di come la parte, per l'appunto statica, può poi essere calata e legata alla parte dinamica. Cercheremo di parlare e di affrontare insieme questo argomento facendo un esempio sul cammino e poi due esempi sullo sport. Due esempi che sono molto, molto rilevanti, che sicuramente conosci, l'hai già visto in altri eventi, quindi diciamo che non ti faccio vedere una cosa sconosciuta, ma parleremo di qualcosa che conosci. Allora, postura statica e postura dinamica. Che roba è? Di che cosa si tratta? E come può essere definita? Nei webinar precedenti abbiamo definito la postura statica, o meglio, la definizione generica di postura, esattamente come quella che è riportata, che ATS è riportata per la prima volta nel libro di esercizio correttivo nel 2016, definendo quindi la postura come un insieme ben organizzato di aspetti, di funzioni, eccetera, 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 che in un modo o nell'altro sono influenzati da tanti, tanti, tanti fattori. Fattori, appunto, psicomotivi, fattori patologici, traumatici, eccetera, eccetera. Ovviamente queste tipologie di definizioni che abbiamo visto insieme nei webinar precedenti che puoi sempre trovare sul canale postura, in realtà, però, non differenziano specificatamente tra quello che faccio da fermo, la postura statica, e quello che faccio in movimento, la postura dinamica. Non differenziano in questa maniera. Quindi serviva, in un modo o nell'altro, una differenziazione che fosse specifica per la parte dinamica. Mi spiego meglio. Non che quello che è scritto sul lato di sinistra dello schermo, quindi la definizione che abbiamo scritto in esercizio correttivo, è una definizione che si applica, che si può applicare solo alla parte statica. No, non è questo il discorso. È una definizione che, ovviamente, si può applicare sia alla parte statica che alla dinamica, ma la maggior parte dei ragionamenti che noi facciamo e la maggior parte delle nostre tipologie di interpretazioni, di approcci, di attenzioni mentali, solitamente, attraverso quella tipologia di definizione, le facciamo in ambito statico. Siamo abituati per, come posso dire, un po' per abitudine mentale, sicuramente, ma soprattutto per schemi che ci sono stati passati nei nostri percorsi formativi, a ragionare la postura sempre come qualcosa di fermo, una bella statuina messa là. Peccato però che questa bella statuina è ferma solo nell'istante in cui la guardiamo. E, se vogliamo essere proprio precisi, 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 non è neanche fermissima, ma in realtà ha una sua micro dinamica, ha dei micromovimenti. Queste tipologie di micromovimenti, in realtà, concorrono a tutto quello che è scritto nella definizione a sinistra. Nella definizione a destra, invece, c'è una definizione che io, ammetto subito, non l'ho scritta, non l'ho pubblicata da nessuna parte, quindi è assolutamente discutibile, puoi tranquillamente parlarne e farmi obiezioni su questa definizione, però, ripeto, non è pubblicata da nessuna parte, è quella che io utilizzo dal 2018, quindi da circa tre anni a questa parte, da quando racconto e parlo di postura dinamica. Per postura dinamica, fondamentalmente, non si intende, cioè si intende tutto quello, mettiamola così, un po' come gli optional della macchina, c'è il modello base, poi c'è il modello plus, il modello plus, c'è tutto quello che c'è il modello base più qualcosa. La definizione di postura dinamica la possiamo mettere come plus, quindi c'è tutto quello che è detto nella definizione di sinistra, tutto quello che c'è scritto nella definizione presente su esercizio correttivo, ma questa tipologia di definizione si completa, si arricchisce, possiamo dire, di altri aspetti. This is sportsscience.com Sponsored by ATS S. 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 S.